bentornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti io sono elisa true crime e anche oggi sono qui con voi per raccontarvi una storia di true crime che mi ha particolarmente scioccata vi ricordo che il fine dei miei video e del mio canale è sempre quello di denunciare diffondere consapevolezza ma soprattutto quello di ricordare le vittime di queste storie oggi parliamo di un caso relativamente recente un caso che secondo me vi porterà ad avere opinioni contrastanti e sono davvero curiosa di leggere i vostri commenti e di sapere che cosa ne pensate voi prima di addentrarci nella storia però voglio prendermi un minuto per ringraziare lo sponsor del video di oggi Cambly la fine del 2023 è ormai molto vicina e come ogni anno io ho già iniziato a scrivere la mia lista dei buoni propositi e tra questi come sempre c'è il mantenere o il migliorare il mio inglese fidatevi di me amici basta solo qualche ora la settimana e tra un anno vedrete la differenza e mi ringrazierete Cambly è una piattaforma di e-learning che consente di fare lezioni individuali di inglese online con tutor madrelingua ed è disponibile sia su pc sia come app sul cellulare e puoi scegliere tra migliaia di tutor da tutto il mondo con personalità interessi e professioni diverse disponibili 24 ore su 24 sette giorni su sette puoi addirittura scegliere l'accento che ti piace di più americano britannico canadese australiano puoi scegliere il corso migliore per te tra tante opzioni come per esempio inglese commerciale informatica o anche corsi per prepararti all'Iles e al TOEFL e puoi anche riguardare le tue lezioni precedenti per ascoltare i tuoi errori e imparare da essi tra l'altro Cambly ha deciso di venirci incontro prolungando il suo sconto del 60 per cento su tutti i piani annuali utilizzando il mio codice promo che trovate nella descrizione del video inoltre amici prima di acquistare il vostro piano potrete fare una prova di 30 minuti al costo di solamente un euro vi lascio il link come sempre sotto in descrizione prego non c'è di che e ora torniamo alla storia di oggi oggi parliamo del caso di mackenzie scirilla e del tragico incidente che ha coinvolto lei e altri due suoi amici devion flanagan e dominic russo dominic è un ragazzo di 20 anni quasi 21 vive con la sua famiglia in ohio a strongsville e frequenta il liceo lo strongsville high school in cui si diploma proprio l'anno in cui si svolge questa storia 2022 dominic è un ragazzo pieno di vita con una bella famiglia molto serena è un ragazzo che ama la vita e che ha moltissimi hobby e passioni per esempio è molto bravo negli sport e gioca a football nella squadra del suo liceo ama leggere ma la cosa che forse ama di più è la musica infatti dominic sogna di diventare un produttore di musica un giorno e in realtà nonostante la sua giovane età dominic produce già la sua musica ha inciso diverse canzoni e da questo capiamo quanto la sua personalità sia ricca e creativa dominic ha un amico a cui è molto legato e che frequenta anche lui lo stesso liceo ovvero devion devion markel flanagan nasce l'11 marzo del 2003 quindi ha 19 anni al momento di questa storia ha due anni in meno dell'amico dominic e non solo frequenta lo stesso liceo ma gioca anche nella stessa squadra di football insieme a lui l'infanzia di devion però è particolare è decisamente diversa da quella del suo amico infatti devion ha passato l'infanzia fino all'età di nove anni in un orfanotrofio prima di venire adottato dalla sua famiglia dalla famiglia flanagan da quelli che oggi sono i suoi genitori jamie e scott jamie e scott flanagan in un video molto toccante raccontano di come hanno adottato devion e la storia è veramente incredibile praticamente jamie e scott volevano adottare uno o più bambini e una sera avevano aperto la piattaforma online del dell'orfanotrofio per vedere i bambini da adottare insomma e avevano aperto il file di questi tre fratellini che erano appunto devion e le sue due sorelle e quando li avevano visti avevano visto le loro foto si erano innamorati all'istante ma avevano deciso di prendersi un po di giorni per pensarci su ma la mattina dopo avevano ricevuto una chiamata dall'orfanotrofio che li informava che erano appena arrivati tre bambini che appunto dovevano essere adottati e che secondo loro sarebbero stati perfetti per la famiglia flanagan e quando gli danno il numero del file i flanagan scoprono che si trattava proprio di devion e delle sue sorelline quindi hanno preso questo come un segno del destino e hanno adottato tutti e tre e da quel momento come potete immaginare la vita di tutti è cambiata è cambiata la vita dei flanagan ma è cambiata anche la vita di devion e delle sue sorelline devion cresce e diventa un ragazzo che tutti descrivono come meraviglioso con un sorriso contagioso sempre pronto ad aiutare gli altri devion nella sua vita oltre agli sport che sono una sua enorme passione ha un altro sogno nel cassetto quello di diventare un parrucchiere infatti dopo il liceo ha intenzione di frequentare la scuola per diventare parrucchiere così da aprirsi un suo negozio un suo barbiere arriviamo così al 30 di luglio del 2022 quella sera dominic e devion vanno a casa di un loro amico e insieme a loro c'è anche un'altra ragazza una ragazza di nome mckenzie scirilla mckenzie è una ragazza di 17 anni e in realtà non si hanno molte informazioni su di lei e sulla sua vita quello che si sa è che in quel periodo usciva insieme a dominic non si sa da quanto uscissero insieme ma i due avevano una relazione e quella sera con i due ragazzi appunto c'è anche lei dominic devion e mckenzie vanno a casa di questo loro amico e poi ad un certo punto intorno alle prime ore del mattino vanno via e si dirigono verso casa tutti e tre a bordo dell'auto di mckenzie una toyota cambridge del 2018 e vi ricordo che in america si può guidare all'età di 16 anni lei ne aveva 17 e infatti era proprio lei al volante quella notte ma purtroppo qualcosa succede perché alle 5 e 30 del mattino la macchina di mckenzie si schianta violentemente contro il muro di mattoni di un palazzo sfondandolo completamente lo schianto è assordante l'impatto violentissimo e purtroppo entrambi devion e dominic perdono la vita in questo incidente essendo anche notte fonda i soccorsi ci mettono un po ad arrivare arrivano intorno alle 6 un quarto chiamati da un passante che ha visto l'auto completamente accartocciata contro il muro 45 minuti dopo l'incidente ma quando i soccorsi arrivano per dominic e devion ormai è troppo tardi i due ragazzi erano rimasti intrappolati all'interno della vettura e non avevano avuto scampo mckenzie invece nonostante fosse anche lei rimasta intrappolata all'interno del veicolo e nonostante fosse incosciente quando i soccorsi erano arrivati lei sopravvive e sopravvive anche senza grossissime ferite viene chiaramente portata d'urgenza all'ospedale più vicino ma dopo le cure e un periodo di convalescenza lei si riprende inutile dirvi però che le famiglie dei due ragazzi sono devastate completamente devastate e non capiscono come tutto questo sia potuto accadere non si danno pace e la mamma di dominic christine a poche ore dall'incidente devastata dalla notizia della morte di suo figlio telefona alla mamma di mckenzie per sapere sua figlia come stesse e insomma considerate che mckenzie e dominic stavano insieme quindi le mamme si conoscevano ma la mamma di mckenzie secondo christine reagisce subito in un modo molto strano che insinua nella testa di christine i primi di una lunga serie di dubbi rispetto quanto successo dopo che christine in lacrime al telefono le comunica che suo figlio era morto e le chiede come stia sua figlia ma soprattutto che cosa sia successo la madre di mckenzie le risponde di non aprire facebook e di non leggere quello che la gente stava scrivendo su facebook christine è confusa ma lì per lì non ci fa neanche caso perché come dirà in seguito suo figlio era appena morto quindi non riusciva a pensare a nient'altro e sicuramente non pensava a facebook e a cosa la gente scriveva su facebook Il 31, 2022. Ma non passa molto tempo prima che Christine capisca esattamente di che cosa stava parlando la madre di Mackenzie. La madre di Mackenzie era preoccupata per la reputazione di sua figlia perché quell'incidente tutto sembrava fuorché un incidente. La gente infatti praticamente da subito ha iniziato a pensare che la ragazza si sia schiantata di proposito contro quel muro. E non è una cosa che pensa solo la gente ma anche le autorità che infatti eseguono subito un'indagine per capire cosa sia successo. Era stato un incidente? C'era stato qualche malfunzionamento nell'auto? Da questa indagine emerge qualcosa di spaventoso ovvero che Mackenzie al momento dello schianto stava andando ai 160 km orari. 160 km orari amici avete presente quanto sia veloce un'auto che va ai 160 km orari. E per di più una telecamera di sicurezza di una casa lì vicino perché questa era una zona residenziale. aveva ripreso tutto e il video dello schianto viene reso pubblico e guardando questo video sembra davvero inequivocabile. Ve lo faccio vedere e poi deciderete voi. Nel video vediamo abbastanza chiaramente l'auto andare appunto ad una fortissima velocità senza alcun accenno di frenata né di sbandamento. L'auto di Mackenzie con lei alla guida corre e senza esitazione si schianta contro quel muro. Per le autorità tutto ciò è più che sufficiente per arrestare Mackenzie il 4 novembre del 2022. Quindi circa quattro mesi dopo l'incidente con l'accusa di omidio stradale. Mackenzie in tutto ciò nega tutto. Dice di non aver assolutamente ucciso nessuno volontariamente. Continua a dire che si è trattato di un incidente ma allo stesso tempo dice di non ricordare nulla. Cioè lei dice di avere come ultimo ricordo. Lei che si mette alla guida ricorda di aver guardato la strada e ha un ultimo ricordo della strada. E dopodiché il nulla. Dice di non avere più memoria. E quindi in realtà non sa esattamente cosa sia successo ma dice che appunto non avrebbe mai fatto del male a Davion e Dominic. Mackenzie viene messa in un riformatorio minorile perché aveva ancora 17 anni in attesa del suo processo. E ad aprile del 2023 viene chiamata in giudizio e quindi viene informata di tutte le accuse a suo carico. E le accuse a suo carico amici sono ben 12. Mackenzie è accusata di 4 capi d'accusa per omicidio, 4 per aggressione, 2 capi d'accusa per omicidio stradale aggravato, 1 per possesso di sostanze stupefacenti e 1 per possesso di strumenti criminali. E tra un attimo vi spiego meglio che cosa significa. A quest'udienza Mackenzie non è presente fisicamente in aula ma è in collegamento video. Ma in ogni caso si dichiara non colpevole e il giudice fissa una cauzione di 500 mila dollari e dà l'ordine alle famiglie delle vittime di non comunicare per nessuna ragione con Mackenzie o con la sua famiglia. E tra l'altro nell'ultimo istante di questo video che la ritrae potete vedere che le si spalancano gli occhi tantissimo e mi sono chiesta il motivo di questa cosa perché è abbastanza evidente. Mi sono data una risposta anche se è un mio pensiero quindi prendetelo con le pinze. Lei spalanca gli occhi in quel modo nel momento in cui viene detto il nome del giudice che avrebbe svolto il suo processo e il nome del giudice è Nancy Margaret Russo e Russo se vi ricordate è anche il cognome di Dominic. Quello che era il suo fidanzato è una delle vittime di questo incidente. Quindi non so se il sentire che il giudice si chiami Russo abbia causato questa reazione fisica in Mackenzie. Fatto sta che voglio specificare con voi che il giudice non ha nessuna parentela con Dominic. Il fatto che abbiano lo stesso cognome è pura coincidenza. Il 16 luglio 2023 c'è un aggiornamento. Un aggiornamento decisamente vantaggioso per Mackenzie. Infatti le viene offerto un patteggiamento. Se si fosse dichiarata colpevole di un capo d'accusa per omicidio e un capo d'accusa per possesso di sostanze in cambio avrebbe ricevuto una sentenza decisamente ridotta. Anche perché, amici, Mackenzie, nonostante avesse 17 anni al momento dell'incidente e quindi nonostante fosse minorenne sarebbe comunque stata processata come un'adulta e sapete che questa cosa in America succede molto spesso. Ma consapevole di ciò, Mackenzie e il suo avvocato decidono di rifiutare il patteggiamento. La prima volta che l'ho visto ricordo di essere rimasta un attimo sconcertata dall'espressione di Mackenzie. Per carità, non sono un'esperta di linguaggio corporeo ma ricordo di aver pensato wow, che espressione strana, no? Ha un'espressione quasi compiaciuta, ha un'espressione quasi spavalda e pensavo di averlo pensato solo io. Mentre poi, invece, proprio questo suo atteggiamento in aula è stato portato al processo dall'accusa perché è stato effettivamente strano. La sua espressione è strana. Non sembra proprio rendersi conto della gravità della situazione intorno a lei. Ad agosto del 2023 inizia il processo e solitamente i processi negli Stati Uniti ormai lo sapete vengono svolti con un giudice ovviamente e con una giuria ma nel caso di Mackenzie viene svolto un processo senza giuria in inglese si chiama bench trial quindi non è una giuria a emanare il verdetto la decisione finale spetta solamente al giudice e questo ha diversi vantaggi per l'imputato uno dei vantaggi è che il processo in questo modo è molto più celere perché chiaramente non deve essere scelta una giuria e già solo questo velocizza il tutto ma più che altro quando l'imputato sceglie una bench trial un processo senza giuria è solitamente perché è accusato di qualcosa di controverso qualcosa per cui l'opinione pubblica probabilmente non sarebbe dalla tua parte perché magari i media hanno ricamato molto sulle tue azioni e quindi insomma tutti ti odiano per dirla in parole molto molto povere quindi sarebbe difficile scegliere una giuria imparziale oppure questo tipo di processo viene svolto anche quando nel processo si affrontano temi legali molto complessi che quindi una giuria che vi ricordo è formata da persone comuni avrebbe difficoltà a capire e quindi potrebbe anche in quel caso essere controproducente l'imputato rischierebbe in entrambi i casi che vi ho elencato di non avere un processo equo ecco McKenzie sceglie di avere un processo senza giuria che infatti è molto più veloce di un processo normale ma molto più veloce nel senso che si conclude in soli quattro giorni al processo emergono tantissimi elementi da parte dell'accusa che non erano stati resi pubblici prima e che dipingono un'immagine abbastanza nitida di quello che è successo l'accusa infatti ha molte prove contro di lei che dimostrerebbero che appunto la tragedia avvenuta non è stata accidentale ma intenzionale ovviamente mostrano il video che vi ho già mostrato prima che è appunto abbastanza inequivocabile quindi mostrano il video dicendo che appunto McKenzie aveva proprio accelerato apposta per schiantarsi contro quel muro senza nessuna esitazione un esperto che aveva analizzato l'auto e la scena del crimine ha testimoniato dicendo che quando avevano tirato fuori McKenzie dalla macchina il suo piede era ancora premuto sul pedale dell'acceleratore e il pedale dell'acceleratore era premuto fino in fondo un altro elemento che l'accusa ha fatto emergere al processo è che McKenzie quella notte per andare via da casa di quell'amico ha fatto una strada che non faceva di solito una strada che a detta degli avvocati dell'accusa non aveva alcun senso fare era una strada oscura, senza illuminazione e che da quello che dicono loro non combaciava con la tratta che avrebbe dovuto invece percorrere per tornare a casa sua o per accompagnare a casa i due amici l'accusa sostiene dunque che McKenzie abbia percorso quella strada per un motivo specifico ovvero schiantarsi di proposito contro quel muro senza dare troppo nell'occhio senza che qualcuno potesse chiamare prontamente i soccorsi e questa teoria dell'accusa trova riscontro dal fatto che McKenzie avesse cercato quella strada giorni prima sul suo cellulare e l'avesse percorsa esattamente tre giorni prima quasi come per fare una prova come dimostrano le stesse telecamere di sorveglianza che avevano ripreso lo schianto ma perché secondo l'accusa McKenzie avrebbe voluto fare quello che ha fatto? secondo loro la motivazione è semplice McKenzie voleva uccidere Dominic, il suo fidanzato e poi forse togliersi la vita cioè sperava di rimanere uccisa anche lei nello schianto cosa che non è successa Davion invece è stato solo un danno collaterale cioè il fatto che ci fosse anche lui in macchina era superfluo per lei a lei interessava solo uccidere Dominic e forse se stessa questo ovviamente secondo l'accusa e il motivo per cui secondo l'accusa McKenzie voleva uccidere Dominic è che a quanto pare la loro non era una relazione serena e felice come McKenzie aveva sempre voluto far credere ma al contrario era una relazione tossica i due stando a quello che raccontano alcune persone che li conoscono litigavano molto spesso e pare che lei una volta sia stata sentita da alcuni amici della coppia minacciare Dominic durante una forte litigata di volersi schiantare con la macchina con lui all'interno McKenzie passava tantissimo tempo a casa di Dominic che viveva con la sua famiglia e al processo ha testimoniato uno dei fratelli di Dominic Angelo e ha detto di aver assistito a tantissimi comportamenti negativi da parte di McKenzie nei confronti di suo fratello in aula vengono anche mostrati dei video che Dominic aveva fatto col suo cellulare di McKenzie mentre i due litigavano e in questi video si poteva sentire lei urlare insulti e cose insomma degradanti brutte parole nei confronti di Dominic sbattendo i pugni sulla porta perché Dominic non voleva lasciarla entrare in casa alterata in quel modo e si sente McKenzie dire che se Dominic non avesse aperto la porta immediatamente ci sarebbero state ripercussioni quindi secondo l'accusa quello che è successo è questo lei e Dominic avevano una relazione tossica Dominic voleva lasciarla una volta per tutte e lei l'ha ucciso in quel modo portandosi dietro anche Davion che in tutto ciò non c'entrava nulla probabilmente sperando come ho detto prima di non sopravvivere neanche lei ed è incredibile se ci pensate che lei sia sopravvissuta a quell'impatto a quella velocità cioè la macchina dopo lo schianto era completamente distrutta e lei non solo è sopravvissuta ma le ferite che aveva riportato erano davvero lievi se pensate che dopo 3-4 mesi quando è stata arrestata era già come nuova all'interno della macchina comunque quella notte la polizia aveva trovato anche delle sostanze aveva trovato dei funghetti allucinogeni e un bilancino di quelli che si usano per pesare la droga e a questo infatti si riferiscono i capi d'accusa possesso di sostanze e possesso di strumenti criminali questo capo d'accusa in particolare si riferiva a questo bilancino e se vi state chiedendo se McKenzie fosse sotto l'influenza di sostanze al momento dello schianto ebbene sì e no nel senso che sì hanno trovato tracce di THC nel suo sangue quindi aveva fumato marijuana insieme anche a Dominic e Davion a casa del loro amico ma non è stato trovato nulla più di questo quindi nulla che potesse spiegare o giustificare le sue azioni cioè l'accusa non pensa assolutamente che si sia voluta schiantare contro il muro perché aveva fumato un po' di marijuana ecco e che facesse abitualmente uso di sostanze però è un dato piuttosto certo infatti sul suo profilo TikTok possiamo trovare un TikTok appunto in cui lei stessa scrive sono una di quelle ragazze che può fare uso di un sacco di droghe senza morire e oltre a questo TikTok McKenzie aveva sui suoi social tantissime altre foto che la mostravano al volante in stato di ebrezza o comunque in modi diciamo compromettenti per esempio al volante con una canna in bocca foto di questo genere tanto che al processo uno dei detective mostra una cartella che aveva creato durante le indagini contenente ben 136 foto di questo genere di McKenzie che sicuramente non hanno aiutato la sua causa ma le prove contro di lei da parte dell'accusa non sono ancora finite hanno puntato infatti molto sulla sua mancanza di rimorso e sul suo comportamento diciamo bizzarro in seguito all'incidente pare infatti che dopo solo pochi giorni dall'incidente mentre McKenzie si trovava ancora in ospedale abbia chiesto ad un detective se per favore potevano solamente toglierle la patente per tanto tempo tipo per 10 anni e basta cioè tu sai di esserti schiantata contro un muro e di aver ucciso un tuo amico e il tuo fidanzato solo pochi giorni fa e vai dal detective che sta indagando su di te e gli chiedi vabbè dai ma non potete tipo solo togliermi la patente per 10 anni cioè ma aiuto secondo l'accusa questo atteggiamento faceva capire che McKenzie non fosse proprio in grado di comprendere la gravità di quello che aveva fatto e questa non è neanche l'unica cosa di cattivo gusto che ha fatto in quei giorni successivi all'incidente pare infatti che sempre appunto a pochi giorni dalla tragedia quando McKenzie si trovava ancora sempre in ospedale le abbia lasciato un commento su Instagram una pagina di agenzia di modelle le ha commentato una foto scrivendo questo amiamo questo look possiamo usare questa foto nel nostro sito e sulle mail rispondi con hashtag community se accetti e a questo commento aveva risposto subito sua madre scrivendo grazie per questa incredibile opportunità ciao sono sua madre e a lei farebbe un immenso piacere so che ha già provato a contattarvi via mail è stata in un tragico incidente ma non intendeva porre fine alla vita dei suoi amici volontariamente questo è doloroso per lei esattamente come lo è per chiunque altro anzi forse un po' più doloroso e poi anche McKenzie aveva commentato taggandoli e mettendo hashtag community scrivendo grazie per il commento amerei lavorare con voi vi ho mandato un sacco di mail che enorme opportunità grazie e in quei giorni in ospedale McKenzie ha continuato a fare ricerche per lavori come modella allora io non lo so se si tratti di un meccanismo di difesa forse si era un attimo dissociata dalla realtà ma è agghiacciante pensare che dopo quello che è successo mentre ti trovi ancora in ospedale dopo aver ucciso due persone tu possa metterti a cercare lavori da modella come se niente fosse ma non è tutto praticamente i genitori di Dominic e di Davion hanno fatto dei necrologi online hanno fatto entrambi questa pagina in cui amici e parenti possono lasciare dei commenti possono lasciare dei pensieri e insomma scrivere qualcosa per ricordare i due ragazzi ecco sul necrologio di Dominic McKenzie lascia svariati messaggi come per esempio questi ti amo mio Nug che è un nomignolo carino non smetterò mai di pensare a te mi sento come se dovessi entrare da un momento all'altro dalla porta mi manca la tua risata il tuo sorriso perfetto sento la tua energia intorno a me ogni giorno e vorrei solo che fosse fisica e poi scrive ancora Dio tu sei l'ultima persona che meritava questo avevi una vita perfetta davanti a te avrei voluto dirti queste cose di più per favore aspettami gli avvocati dell'accusa sono convinti che McKenzie abbia lasciato questi messaggi solo per fingere di essere dispiaciuta o di starci male per dimostrare agli altri a quelli che leggevano che anche lei stava soffrendo infatti i genitori di Dominic hanno subito eliminato questi suoi messaggi dalla pagina e un'altra cosa che ha fatto emergere l'accusa durante il processo a supporto della loro tesi ovvero che McKenzie non provasse alcun rimorso e non si rendesse conto della gravità della situazione è il fatto che la ragazza sia andata a festeggiare Halloween con le sue amiche a soli tre mesi dall'incidente Kenzie Shirella ha celebrato Halloween con i suoi amici in Ohio McKenzie McKenzie aveva postato dei selfie in cui non solo era con le sue amiche a festeggiare ma era anche vestita a tema a tema Halloween e tra le tante cose che poteva scegliere come costume lei ha scelto di vestirsi da tipo scheletro cioè tipo da cadavere cosa che sommata a tutto quello di cui l'accusa ha parlato finora e che ha fatto emergere finora sembra solo l'ennesimo comportamento di cattivo gusto di questa ragazza la difesa invece puntava sul voler dimostrare che quanto successo fosse stato un incidente e quindi qualcosa di non intenzionale ha cercato di argomentare il fatto che comunque sì McKenzie e Dominic litigavano ma che insomma non era una cosa unilaterale quindi anche Dominic litigava con McKenzie e poi hanno anche tentato di dare un senso allo schianto dicendo che magari McKenzie aveva tentato di evitare qualcosa sulla strada e quindi aveva perso il controllo della macchina o che addirittura qualcuno nell'auto quindi Dominic o Davion le avevano preso il volante e l'avevano fatta schiantare ma queste cose non hanno alcun senso perché primo dal video si vede chiaramente che la macchina non ha per nulla sbandato va assolutamente dritta per la strada e contro il muro e poi se McKenzie avesse voluto evitare qualcosa sulla strada o se avesse sbandato perché qualcuno le ha preso il volante gli esperti lo avrebbero visto ci sarebbero stati segni di frenata segni di sbandamento invece ricordate il suo piede era ancora fino in fondo tirato giù sull'acceleratore quando l'hanno trovata la madre di McKenzie testimonia dicendo anche che il fatto che lei sia andata alla festa di Halloween a pochi mesi dall'incidente non significa nulla dice di essere stata lei sua mamma ad incoraggiarla ad uscire e a divertirsi perché aveva passato tutto il tempo a piangere e quindi l'aveva convinta a concedersi solo un momento di divertimento che ha cominciato la musica che ha scritto quindi stava chiedendo per tre mesi quindi i miei amici chiedono se volete andare a trick-or-treating o a Halloween e non non voleva andare e diceva non lo so non lo so non si può andare ma non si può andare non si è quindi ho detto di andare è Halloween ci sono chiedere tre mesi chiedendo solo sull'acceleratore la musica porre vi 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 ho detto una momento quindi ho detto Tenta anche di giustificare lo schianto dicendo che McKenzie soffrisse di una condizione medica chiamata POTS, tachicardia posturale ortostatica, che porta l'individuo ad avere giramenti di testa o svenimenti qualora i suoi livelli di sodio e di idratazione non fossero abbastanza alti. E sua madre dice che McKenzie soffriva di questa cosa, ma questo non è abbastanza per convincere il giudice. La difesa è effettivamente molto debole e infatti dopo soli quattro giorni, il 14 agosto del 2023, il giudice dichiara McKenzie-Cirilla colpevole di tutti e dodici i capi d'accusa e in più le sospende la patente per tutta la vita. E voglio aggiungere una cosa perché mentre leggevo lo script a Edo, prima di registrarlo, lui mi ha fatto una domanda a cui io effettivamente non avevo pensato, ovvero ma i ragazzi avevano la cintura di sicurezza oppure no? Soprattutto McKenzie aveva la cintura oppure no? Perché da questo si potrebbe capire meglio se, nel caso in cui avesse fatto tutto di proposito, se lei si volesse salvare oppure se volesse rimanere uccisa anche lei? Ma stranamente, amici, non ho trovato niente. In nessuna notizia è indicato se lei avesse la cintura messa oppure no. In alcuni commenti su Reddit degli utenti dicono che ce l'avesse, ma insomma i commenti di Reddit non sono esattamente una fonte attendibile, quindi prendete questa cosa non con le pinze di più. Comunque, prima che il giudice leggesse la sua sentenza, McKenzie legge una breve dichiarazione e la legge cercando di trattenere le lacrime senza successo e dice questo Alle famiglie di Dom e Davion, sono profondamente dispiaciuta. Spero che un giorno voi riusciate a vedere che non avrei mai fatto succedere tutto questo e non l'avrei mai fatto apposta. Vorrei poter ricordare quello che è successo. Eravamo tutti amici e Dom era la mia anima gemella. Vorrei poter prendere il vostro dolore. E alla mia famiglia, grazie per il supporto e per tutto l'amore che mi date. Vi voglio bene. La sentenza è intensa. Le parole che la giudice sceglie di usare sono molto forti ma chiare e voglio tradurvi tutto quello che dice la giudice perché è veramente importante. Questo processo è il risultato delle decisioni prese da una persona, l'imputata. Queste decisioni hanno per sempre alterato il futuro di tre famiglie e anche il tuo, McKenzie. Le tue decisioni hanno derubato Dominic e Davion della vita che avevano davanti. E se c'è qualcosa che possiamo imparare da questo processo, per quanto triste sia, è questo. Ogni decisione che prendiamo è importante. Ogni azione che facciamo è importante. Non importa se sia un'azione buona oppure no, una decisione buona oppure no, il risultato è lo stesso. Le conseguenze si scatenano e intaccano molte più persone di quello che potevamo pensare al momento della decisione. Nei casi giudiziari, lo Stato porta il peso più grande sotto la nostra legge, la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Come ho detto in precedenza, ho considerato tutte le prove che mi sono state presentate e a questo punto vorrei fare un commento sulla prova 802, il video dello scontro in macchina. Questo è il genere di prove che non puoi più toglierti dalla testa. Non puoi dimenticare la visuale o l'audio di questa prova, che era capricciante e tragico. Mentre guardi quella prova, sai che stai guardando l'imminente morte di due persone e che non c'è niente che può fermarla. Questo video mostra chiaramente la pura intenzionalità dell'imputata. Lei ha scelto la via della morte e della distruzione quel giorno. La prova 802 ha cristallizzato le intenzioni letali dell'imputata. Si è tramutata da un guidatore responsabile, letteralmente ad un demonio dietro al volante, mentre si faceva strada lungo quella via. McKenzie da sola ha preso la decisione di guidare il veicolo lungo una strada oscura, una strada che aveva visitato solo pochi giorni prima, una strada che non aveva mai preso altre volte. McKenzie da sola ha scelto l'orario in cui percorrere quella strada, alle prime ore del mattino, un orario in cui qualsiasi persona ragionevole non si aspetterebbe di trovare nessuno in giro, nessun testimone e nessuno che possa offrire aiuto. Ha preso questa decisione, seppure consapevole, come ogni persona ragionevole lo sarebbe, che la sua missione di morte avrebbe coinvolto altri, non solo quelli in macchina con lei, ma altre persone, altre macchine, passanti. Lei aveva una missione e l'ha eseguita con precisione. La missione era la morte. McKenzie da sola ha deciso di spingere il pedale dell'acceleratore fino in fondo per far arrivare il veicolo dalla velocità di 144 km orari alla velocità di 160 km orari. Lei da sola ha deciso cosa fare. McKenzie ha deciso che la morte era il suo obiettivo in quella giornata e lei da sola ha preso quella decisione per Dominic, per Devion e non si è fermata fino al raggiungimento del suo scopo. Se intendesse oppure no uccidere anche se stessa non si sa ed è solo oggetto di speculazione, ma non ha rilevanza nella vastità di prove che esistono contro di lei in questo caso. La totalità delle prove dimostrano che McKenzie-Cirilla ha agito in modo intenzionale e voluto nelle prime ore del mattino del 31 luglio 2022 e il suo obiettivo era quello di uccidere Dominic Russo e Davion Flanagan. Nessuna persona ragionevole potrebbe guardare la totalità di queste prove e pensare qualcosa di diverso. Le sue azioni erano controllate, metodiche, deliberate e intenzionali. Questa non è stata guida spericolata. Questo è omicidio. McKenzie viene condannata a due condanne da un minimo di 15 anni ad un massimo di tutta la vita. La pena massima è life in prison, quindi il passare il resto della propria vita in prigione. Il giudice però deve decidere in che modo far scontare questa pena a McKenzie. Se farle scontare le due pene in modo consecutivo, dandole la possibilità di poter richiedere la condizionale dopo 30 anni oppure se farle scontare allo stesso tempo, insieme, così che avrebbe potuto chiedere la condizionale solo dopo 15 anni. I familiari delle vittime hanno pareri discordanti sulla sentenza del giudice. Una delle sorelle di Davion fa una dichiarazione in tribunale dicendo che augura a McKenzie il massimo della pena perché da quando la conosce McKenzie era sempre riuscita a passarla liscia, qualsiasi cosa facesse. Mentre invece il padre di Dominic, Frank Russo, ha dichiarato di non volere che McKenzie finisca in prigione per il resto della sua vita. Ha dichiarato le testuali parole È solo una ragazzina. Ha fatto una cazzata. Ha fatto una cosa dannatamente stupida, ma ora i suoi genitori sono distrutti. Anche la sua famiglia è distrutta, non solo la nostra. E ha anche aggiunto che lui preferirebbe che McKenzie ricevesse l'aiuto di un professionista piuttosto che essere chiusa in carcere per il resto dei suoi giorni. Alla fine il giudice Nancy Russo decide di farle scontare le due pene allo stesso momento, quindi dandole la possibilità di richiedere la condizionale dopo 15 anni e non 30. E questo lo fa proprio per via della sua età, quindi anche se McKenzie è stata processata come un'adulta, il giudice ha tenuto conto della sua giovane età al momento della condanna. Quindi McKenzie potrà provare a richiedere la condizionale tra 15 anni, anche se il giudice ha anche detto che secondo lei non la otterrà. I genitori di Davion ad oggi hanno creato una pagina GoFundMe con una raccolta fondi per una borsa di studio da donare alla scuola che Davion avrebbe voluto frequentare, la Allstate Airstyling and Barber College, un college per diventare parrucchiere o barbiere a Cleveland in Ohio, per aiutare altri ragazzi che come Davion avevano quel sogno. E per il video di oggi amici è tutto, sono davvero curiosa di sapere che cosa pensate voi di questo caso. Pensate che McKenzie abbia davvero accelerato e si sia schiantata contro quel muro intenzionalmente o che come dice lei sia stato un incidente? Pensate che la sentenza del giudice Nancy Russo sia stata troppo severa, come pensa il padre di Dominic, o pensate che sia quello che McKenzie si merita? Sono davvero curiosa di leggere la vostra opinione nei commenti. Detto questo io come sempre vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!